Quelli che vediamo qui sono vasi, sono vasi giocosi in ceramica. Questi sono opera di Gerry De Bastiano, artista di Lecce, conosciuto molto a Londra, Nemo profeta in patria. Questo invece è un vaso di Guglielmo Ulrich, grande architetto di origine danese che ha vissuto tutto il Novecento italiano da grande protagonista, e poi due vasi giocosi e divertenti. Uno antropomorfo che viene da Albisola, una delle capitali della ceramica italiana, dove Lucio Fontana, tanto per fare un nome, o Jorn, lavoravano. E qui un'altra delle capitali della ceramica, Faenza, è rappresentata con questo vaso buffo di Mirta Morigi, che è specializzata nel realizzare questi animali, queste lucertole, questi armadilli, queste forme.